Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Roma ci sono 4 km di coda per un incidente ora risolto tra Incisa Reggello e Val d'Arno. In FIPILI rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Fino alle 16 di oggi chiusa la rampa d'accesso allo svincolo di Livorno-Porto, provenendo dalla città di Livorno percorrendo via Leonardo da Vinci per attività di ispezione alla struttura del pannello a messaggio variabile. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara, per il crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!